Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un altro caso di sciacallaggio e controsciacallaggio, un po' come spionaggio e controspionaggio, il caso Giulia. La politica sta tentando in tutti i modi, soprattutto a sinistra, di strumentalizzare questo fatto contro il governo. Vi direte, possibile? Eh sì, trova tutti i modi possibili per trasformare questo fatto come arma politica contro il governo. E vuole portare adesso un'interrogazione in Parlamento contro Simonetta Matone, deputata della Lega. Pensate un po'. Voi direte, cosa avrà mai detto questa leghista? Adesso ve lo racconto. E Angelo Bonelli, ve lo ricordate, quello dei sassi del fiume, che si è presentato in Parlamento con i sassi dicendo che la Meloni aveva prosciugato i fiumi e la Meloni gli era scoppiata a ridere in faccia, ve lo ricordate, no? Ecco, quello lì, giusto per capire di chi stiamo parlando. Dice così, sentite un po', eh. Occuparsi di femminicidio non è di destra né di sinistra, dice Mara Venier, oggi a domenica in, sulla RAI. Ok, ma a parlare invitano due deputate della maggioranza di destra. Ok, e quindi? Vabbè, andiamo avanti. Rita dalla Chiesa e Simonetta Matone. Esordisce Angelo Bonelli, quello dei sassi del fiume. Co-portavoce di Europa Verde, deputato di alleanza Verdi e Sinistra. Ma aggiunge, Simonetta Matone, deputata della Lega, sottolinea, dice Bonelli, interviene e senza alcun dubbio afferma che i colpevoli di femminicidio che ha conosciuto nel suo lavoro avevano sempre modelli materni diseducativi e non avevano mamme normali. Donne che avevano mariti che le picchiavano e non si ribellavano, per esempio. Quindi il modello diseducativo per i figli assassini era la madre che subiva, mica il padre che le picchiava. Le colpevoli sono le donne? Dice Bonelli. Ovviamente il ragionamento della Matone non era quello che intende Bonelli, però, come vi dicevo, le stanno provando tutte per utilizzare questo fatto di cronaca contro il governo. Un fatto di cronaca che non c'entra niente col governo, proprio, ma manco lontanamente, manco lontanamente. Quindi il ragionamento della leghista era più ampio, ovviamente, che non parlava solo di donne o solo di uomini, ma parlava di questo fenomeno e cambiare il metro di giudizio sugli atteggiamenti criminosi di mariti, compagni, figli. Aprire gli occhi, insomma, senza credere alle favole. Questo vale per mogli, fidanzate, ma anche per le mamme, eccetera, eccetera. Il tema è particolare, ma Bonelli continua a insistere. Dice che questa sarebbe la RAI del pluralismo e del contratto di servizio contro la violenza di genere. È grave quello che è successo oggi in RAI e porterò la questione in commissione di vigilanza RAI, perché processare Turetta è ovvio, ma processare politicamente il centro-destra per i sinistri è altrettanto automatico. Cioè, domani succede un'altra cosa, qualsiasi cosa la sinistra che non ha argomenti, non sa come contrastare la maggioranza che ha aumentato i suoi elettori dopo l'inizio di questo governo, hanno questa tecnica, non parliamo dei fatti di politica, ma parliamo di un fatto di cronaca e cerchiamo di rivoltarlo contro il governo. E allora le provano tutte, analizzano parola per parola, hai detto, allora stavi pensando che, cercavi di dire che. È così. Avete visto nei video di oggi che hanno attaccato la Meloni, hanno attaccato Salvini su delle frasi, su delle presunte cose che avrebbero pensato, detto. Ecco, e così arriviamo anche al fatto che due politici in televisione parlano di questo fatto in modo corretto, dove quest'amatone parla della sua esperienza lavorativa e dice spesso queste cose succedono dove c'è un ambito familiare di un certo tipo, dove il figlio assiste e vede un certo tipo di comportamento. Ecco, un comportamento che sì possiamo legare al patriarcato, a queste cose qui, il possesso della persona come se fosse un oggetto. Quindi l'amatone e la erita dalla Chiesa non facevano nient'altro che un ragionamento assolutamente normale, mentre questi politici di sinistra cercano di vedere il marcio in tutto, cercano di vedere e di farti dire anche quello che tu neanche lontanamente hai pensato. Già abbiamo il politicamente corretto, che è la dittatura del pensiero unico, eccetera, eccetera. Quindi già col politicamente corretto devi stare attento a tutto quello che dici perché potresti offendere questo, quello, quell'altro. In più ci si mette la sinistra che cerca di strumentalizzare ogni affermazione per rivoltarla contro il governo. A questo punto il mio consiglio è non vi curate di loro, in televisione parlate, dite quello che dovete dire senza problemi di sorta. Se sapete che non state dicendo niente di strano non vi preoccupate del giudizio di questi personaggi perché per quattro anni andranno avanti tentando di cambiare le sorti delle elezioni, tirando contro il governo qualsiasi fatto di cronaca in modo così, abbiamo visto, penoso. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Se poi questo è l'ultimo trovate altri video sull'altro canale Teleitalia Seconda Rete dove lì ci sono video come questo o anche di Fai Da Te. Poi i video di questi due canali Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia e poi se volete condividerli lo potete fare tranquillamente, la condivisione è assolutamente legittima, questo ve l'ho sempre detto. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie.